Grazie alla temperatura Varoma potrai cuocere allo stesso tempo più preparazioni. Aggiungi l'acqua nel boccale, metti le patate nel cestello, le verdure nel recipiente del Varoma e pesce o carne nel vassoio. Imposta la temperatura Varoma e il tuo bimbi cucinerà per te un pasto sano e completo in pochi minuti. Cuocere a vapore